Oggi 24 febbraio è giovedì grasso ma per il secondo anno consecutivo fra le tante privazioni della pandemia c'è anche quella del momento di festa del carnevale. Così a Fano come a Pesaro il carnevale dei ragazzi per la sua 65esima edizione viene spogliato del momento clou della sfilata dei carri e delle allegorie allestite dalle parrocchie cittadine. Annullare le sfilate per precauzioni da contagio non impone però il divieto di sorridere e così le maschere cittadine di Rabachen e della signora Cagnera accompagnate da Fagiolino sono salite in carrozza per portare allegria ai bambini delle scuole primarie di Pesaro. Un giovedì grasso sui cavalli delle giacche verdi cominciato dalla scuola primaria Cantarini in zona Tombaccia dove decine di bambini in maschera hanno atteso l'arrivo di Rabachen. Sorrisi, balli eppure interrogazioni sulla conoscenza del carnevale e del dialetto pesarese. Come l'anno scorso purtroppo siamo stati costretti a fare questa questa modalità di incontrare i ragazzi per lasciare sempre un po' il sorriso di questi giorni di carnevale purtroppo oggi è successa anche un'altra cosa a livello mondiale però siamo qui a dare un sorriso perché come diceva prima Fagiolino ai bambini della scuola elementare di via Cantarini il bambino ha bisogno di sorridere quindi di non lasciargli quelli che sono i problemi degli adulti e di alcuni pazzi che nel mondo cercano di rovinare la vita. Noi portiamo nella semplicità questo sorriso quest'anno nelle scuole e speriamo il prossimo anno di poterlo fare ancora di nuovo nelle sfilate per le vie della città di Pesaro. La scuola è un luogo anche di interrogazioni, ho visto le domande su chi era Rabachem, parecchi promossi direi. Sì perché si sono ricordati anche di quello che avevamo detto l'anno scorso e anche i bambini della prima elementare questo sapendolo da casa alcuni di loro riconoscevano anche alcune parole in dialetto che purtroppo si perde perché non lo parliamo più nelle nostre case però invece ancora c'è tenendo conto anche di quelle che sono le attività teatrali dilettantistiche della zona dove ci sono molte compagnie di teatro dialettale e loro sì riconoscevano chi era Rabachem e chi era Cagnera e qual era il significato anche del nome Rabachem e del nome Cagnera. Rabachem e la signora Cagnera si sono poi rimessi in marcia per portare gli stessi momenti di allegria e ottimismo alla scuola dell'infanzia di Via Togliatti e alle primarie Don Milani e San Giovanni Bosco. Sorrisi che arriveranno anche martedì grasso quando il primo marzo la carrozza di Rabachem arriverà anche alle scuole primarie Lubic e Carducci.